Amiche ed amici bianconeri, mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. All'inizio abbiamo avuto 3-4 situazioni favorevoli, le abbiamo sbagliate, al primo tiro abbiamo preso gol, ma già lì prima del gol c'è stato un paio di cross e niente di che, ma la percezione è che eravamo con la testa un pochino per aria. Questa è una partita che ci deve insegnare, non è che, ripeto, l'ho detto anche nei giorni scorsi, non eravamo dei fenomeni prima, non siamo dei bidoni ora, siamo una scuola che deve crescere, una scuola che deve stare attaccata dal primo al 95esimo all'interno della partita e su questo bisogna lavorare. Buongiorno Ministro, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport, ieri nella conferenza di vigilia lei aveva parlato di troppa euforia, ma era un'euforia che lei aveva percepito anche nella squadra, che poi oggi si è tramutato in quel senso e scollegati un po' come ha detto lei dalla partita, ha avviso che quattro gol, ma non tanto il numero, anche proprio come sono arrivati, alcuni sono proprio gratuiti, erano questi i segnali che aveva colto ieri, c'era troppa euforia nella squadra, troppa superficialità. Era da giovedì che comunque c'era questa euforia generale, diciamo, una euforia generale, intorno alla squadra, la Juventus deve vincere il campionato, la Juventus deve vincere il campionato, perché è iniziato un ciclo nuovo con tutti i ragazzi che hanno meno esperienza, la Juventus arriverà nei primi quattro, farà un grande risultato, e su questo bisogna essere realisti e bisogna sapere che ogni partita noi per vincere bisogna fare una fatica enorme, perché non abbiamo in questo momento la capacità di accendersi e spegnersi all'interno di una partita. Oggi hai preso l'1-0, hai fatto l'1-1, hai preso il 2-1 come l'abbiamo preso, il 3-1, il 2-2, dopo un minuto hai preso il 3-2, questi sono tutti segnali. Diciamo che all'interno dell'anno c'è sempre una partita chiaro-cambolesca e stasera, soprattutto qui a Sassuolo, queste partite ne capitano spesso. Questo però ci deve dare la consapevolezza che per arrivare nel primo quarto bisogna fare tantissimo, come dicevo anche venerdì, quindi bisogna stare in questo momento zitti, perché abbiamo perso una partita brutta, abbiamo perso 3 punti per la strada, per martedì fortunatamente abbiamo una partita importante con il Lecce in casa e dobbiamo tornare alla vittoria. Buonasera Fabrizio Paterina del Corriere dello Sport, a completamento della domanda precedente, l'equilibrio di cui parlava ieri era riferito anche all'interno dello spogliatoio oppure no? E prima diceva non abbiamo la capacità di accendersi e spegnerci durante la partita, esattamente che cosa intende? E' molto semplice perché sull'1-1 l'inerzia era dalla parte nostra e soprattutto dopo essere andato in svantaggio, in una situazione diciamo dove ci sono stati degli errori, fai l'1-1, dopo l'1-1 comunque deve essere acceso ed è il momento in cui deve schiacciare l'avversario, e invece così non è stato perché abbiamo preso credo 3 di 4 gole in maniera molto rocambolesca diciamo e quindi su questo bisogna lavorare. Non c'è né da innervosirsi né da urlare, c'è solamente da stare zitti e soprattutto usare questa partita di insegnamento per quelle che saranno le prossime, iniziando da martedì. Dentro lo spogliatoio c'è equilibrio, nel calcio c'è una legge non scritta che è quella del campo, che chi fa il campo deve dimostrare di meritarsi la maglia titolare, poi i ragazzi sanno che quest'anno abbiamo una partita da settimana e tutti insieme bisogna rimanere la stessa parte. Buonasera Ministero Michele De Blasis, dopo la serata difficile di questa sera rivedremo Scesni in portaggio da titolare martedì. Scesni il titolare e su questo non c'è nessun dubbio. Massimo Bocuccio, il Corio Sport, Ministro, buonasera. Le chiedo se si è sorpreso per i tanti errori individuali tutti assieme, che di solito siamo una squadra come la Juve, non li commette così. Diciamo che ultimamente abbiamo commesso molto meno, stasera non eravamo attaccati con la testa e abbiamo sbagliato molto. Salve Ministro Antonio Paolino, c'è qualcosa che però ha fatto scattare verso il basso questo switch della Juventus. Cioè vedo che lei è molto bravo a mantenere l'equilibrio nei momenti di esaltazione e quelli anche peggiori, però qui in questa partita è successo qualcosa di più preoccupante probabilmente. Grazie. Più preoccupante no, era una partita a rischio, se non sbaglio io l'avevo anche detto, però purtroppo anche se a volte si dicono le cose non è che poi dopo ci riattaccavamo subito alla partita. Così non è stato e quindi questo è un motivo di insegnamento. Salve Ministro Delino La Stampa. Io volevo chiedere se nello spogliatoio ha parlato con i giocatori e in maniera particolare con Gatti, perché forse quell'errore non capita tutti i giorni e magari può segnare anche pesantemente una persona. Grazie. Nella carriera di errori ne ha fatti e ne farà Gatti, credo che abbia forse 30 partite nella Juventus, credo. Quindi può solamente che migliorare, Federico deve stare sereno, deve stare tranquillo, quell'errore non ha inciso sul risultato, è stato brutto da vedere. Noi in questo momento qui, quando succede questo, bisogna stare solamente zitti e domani riprendere a lavorare in funzione della partita di Marti di Collecce, che insieme all'Inter è la squadra ancora imbattuta nel campionato. Salve Mister, Giorgio Musso di Calciamercato.it. Le chiedo se già Collecce ci saranno delle novità di formazione, un suo giudizio sulla prestazione di Chiesa. Grazie. Il Chiesa ha fatto una buona prestazione, vediamo ora come stiamo, sicuramente le due partite avvicinate può darsi che ci sia qualche cambio. Buona serata.